amici ed amiche di una vita da lontano bentornati dopo insomma qualche settimana di assenza una nuova puntata del vostro podcast preferito non fare quelle facce perché ti vedo quindi per raccontare scusa raffaele stavo dimostrando che ho un tastino per togliere il mio audio ecco adesso non ecco adesso la tecnologia è arrivata anche a teramo siamo d'accordo questo qui è l'equivalente audio video di questa cosa qua siamo d'accordo praticamente sì oppure del vado con le scale no e scompaio da praticamente quello è l'effetto di emiliano che insomma come come comicità sta a dei livelli altissimi a questo punto dell'anno mettiamola così dicevamo una nuova puntata del podcast un nuovo ospite un argomento molto interessante su cui insomma discutere perché ci ci tocca proprio da vicino insomma il nostro passato è stato molto molto vicino all'argomento del di cui si tratta l'ospite di questa puntata quindi come sempre una vita da lontano punto com facebook instagram discord patreon e soprattutto cliccate sul bottone iscriviti qui sotto sul canale youtube e cliccate sul bottone iscriviti sul vostro podcast preferito che sia apple podcast che sia spotify cliccate sulla campanella così sapete quando c'è una nuova puntata come me tutte le settimane e tutte le volte che registriamo una puntata del podcast andrea barniani e io lo farei dopo più che durante vabbè questa meravigliosa introduzione dallo stesso ritmo che potrebbe avere il gioco i ciali recalcati oggi senza nemmeno mettere scarpe a basket io direi che il caso di non aggiungere troppo di chiamare time out di non farmi espellere come farebbe pozzecco e di lanciare ciao piero ciao raffaele ciao a tutti ciao ascoltatori mi stava avendo in mente radio ascoltatori visto questo marco che abbiamo fatto il nostro passato perché noi abbiamo un passato che non è solo di verdura ma anche di altri media mischiati il nostro presente è stato creato apposta per farci continuare a dire delle scemità come si dice al mio quartiere allora io oggi mi sono anche messo una un polo particolare e sono stato costretto a indossare obbligatoriamente mentre facevo lo speaker di coppa e questo ci toccava perché oggi abbiamo una serie di rimandi e lo vedete adesso ve lo ve lo ve lo inquadro eccolo qui il nostro ospite a cui diamo il benvenuto quest'oggi benvenuto ciao andrea benvenuto a questo baby team fuori 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 tempo fuori fuori dalle mura di terra ma il baby team era il programma radiofonico che facevamo nelle radio locali abruzzesi mettiamolo si sentiva in tutto l'abruzzo in piccola parte delle marche anche in un pelo di ubria quando anche in puglia e delle volte anche in croazia se il vento girava per bene e poi si ricordo che siamo stati primi a fare la radio su internet in italia non ci sbagliamo comunque questa è la 94esima puntata di una vita da lontano abbiamo con noi il nostro 88esimo ospite ospite di cui non ho scritto il nome quasi da nessuna parte per per aiutarmi perché è facile per noi col nostro passato perché si chiama andrea e sta scritto sul suo schermino e va bene lo leggete anche voi ma il suo cognome è un cognome che a noi non ci fa venire in mente proprio assolutamente niente ed è andrea snydero benvenuto grazie di essere con noi ciao grazie io ti giuro che pensavo dicessi andrea scavolini ero pronto va bene il vaudeville ma non fino a questo punto allora ci abbiamo veramente sì andrea adesso per metterti pressione sin dall'inizio perché se no è giusto sapi che sei il secondo ospite che io seguivo da prima di avere la possibilità di parlare con te e il secondo ospite che sostanzialmente conoscevo come voce i primi sono stati i ragazzi pastagrammar che conoscevo anche come video perché insomma come dire a mania è bello un americano in italiana in cui è degli states e a te invece passava l'altra mia passione degli states per cui mi dispiace ma oggi devi performare ci devo performare così va bene va bene va bene allora oggi abbiamo un super cortocircuito col salto mortale all'indietro carpiato con sbattimento di muso sul bordo della piscina e perché è tornato tutta questa cosa del nostro varietà spinto radiofonico cestistico parlante perché andrea ha un lavoro diciamo così se non ho letto la nota che mi avete che mi avete mandato sei un un super podcaster di nba il podcast più ascoltato sull'nba in italia giusto allora non so se sono il podcast più ascoltato non non ho idea non lo dico io se non è vero lo dico io non non importa sicuramente voi più antichi allora abbiamo abbiamo la fortuna dunque sì non è il mio lavoro perché non ci guadagno e tra l'altro questo è il primo anno abbiamo appena iniziato l'ottava stagione in cui non sono in perdita perché siamo passati su anchor che è gratis è una mossa molto mafiosa per prendere tutti i podcast e quindi per la prima volta io non perdo soldi dopo sette anni di fare questo podcast quindi quindi non è una carriera se ci ascoltate no sono ho il grandissimo piacere di dividere le 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 onde web perché onde radio appunto non sono più con il mio omonimo e omologo come lo chiamo in onda andrea bandiziol che che saluto da ormai otto anni per l'appunto per parlare di basket noi siamo siamo tutto è nato quando andrea ha avuto un'idea e tendenzialmente quando andrea un'idea cose belle accadono e lui mi scrive se un giorno noi ci conoscevamo abbastanza superficialmente tramite amici di amici eravamo in un gruppo di fantabasso una cosa un po così e mi ha detto andrea io è una vita che mi piacerebbe sentire in italia un podcast fatto bene come fanno qualche come fa qualche americano non c'è siccome non c'è voglio farlo io e vorrei farlo con te e che mi ha parecchio lusingato come cosa e ci ha visto giusto perché non ci conoscessimo bene ci armonizziamo secondo me molto bene lui porta un po più di contenuti duri e puri tecnico tattici io porto un po più di osservazioni sul giocatore in sé per sé e su parti un po più come dire narrative magari però secondo me funziona bene lo scopo era il panorama dei podcast di basket in italia era particolarmente scarno al tempo c'era qualche mostro sacro che è ancora lì il buon il buon tore che saluto e ovviamente ragazzi di bold online che sono i pionieri del di questo genere di cose che guardiamo tutti cioè proprio sulle spalle dei giganti in questo senso e poi c'era poco altro e abbiamo iniziato poi ovviamente la facilità d'accesso ha fatto nascere nascono come funghi podcast e benissimo cioè benissimo perché noi abbiamo sempre letti lo scopo per cui abbiamo iniziato questo podcast qua era era duplice il primo era divertirci e quindi la regola numero uno è quando ci vediamo più chiudiamo e smettiamo e secondo era per cercare di dimettere un il nostro piccolo mattoncino per la crescita del movimento per il basket americano in in italia chiaro che chiunque prende un microfono si sbatte studia prepara che sia un podcast colloquiale tech eccetera fa bene fa bene e ti dicevo prima non so se sei più ascoltati non non ho la più palida idea e ti dirò mi interessa anche poco nel senso che non tendo a non essere questo probabilmente perché io quando ero piccolo non c'era ancora la dsl quindi quindi io non sono cresciuto con il fatto che il like mi dà per forza piacere e a me vedere che mi hanno seguito in x chiaro che quando abbiamo fatto per una volta 100 ascoltatori abbiamo stappato il tavernello buono quando abbiamo fatto la prima volta mille anche eccetera eccetera però insomma noi lo facciamo perché è una scusa come un'altra è parlare di basket stare tra amici e pensiamo di dare questo famoso mattoncino ancora il giorno in cui non lo daremo più chiuderemo baracca burattini e lasceremo ai giovani come voi giustamente c'è c'è la seconda cosa devo dirti non pensare che l'invito qui sia un obbligo a invitarmi al tuo podcast quando la prima partita senza debron james in campo assolutamente non ti sentire in obbligo queste sono le condizioni ok perfetto no no scherzo a parte allora quindi sì no abbiamo fatto un un fast forward nel senso che ti abbiamo permesso di descrivere questa parte di lavoro no come con le parole abbiamo messo le mani avanti come si dice la nostra parte siccome io ho notato questa cosa che più più invecchio più mi piace fare le cose con ordine no quindi raccontare una storia anche se alla maniera tarantiniana un po avanti un po indietro però poi ci devono stare tutti i pezzi quindi nostro podcast sugli espatriati vorremmo chiederti di raccontarci a parole tue come sei espatriato dove stai che lavoro fai veramente io ho una scheda qui in cui riempio perché abbiamo le caselline poi lì c'è il qur dei nostri legge sulla lavagnetta è un certo punto riuscirò a produrre gli adesivi anzi le i magneti con tutte le bandierine di tutti i paesi e sto facendo la collezione quindi non abbiamo detto dove sei o se l'abbiamo detto non abbiamo detto con abbastanza enfasi in questo momento dove stai che sono le magliette non stai in un footlocker immagina anche perché sarebbe stato arredato molto male perché l'ho fatto io con la mia abilità incredibile no no sono nella ridentissima e soleggiatissima brussel ha piovuto l'ira di dio poi è arrivato settembre è arrivata la pioggia non che agosto fosse stato molto meglio no sono a brusselo sono a brusselo ormai da nove a novembre faccio nove anni e ne ho 33 quindi soprattutto a 24 se la matematica non mi inganna e sono emigrato per allora sono friulano come si si poteva già intuire non dall'accento spero e ho fatto tutto il mio percorso di studi di studi in friuli vicino a udine e ho fatto relazioni internazionali quel per meglio dire scienze internazionali e diplomatiche a gorizia avendo studiato qualcosa che dava un'apertura verso l'estero non mi sono neanche posto il dubbio di restare a lavorare in italia proprio per una questione di andiamo ho fatto l'erasmus in germania mi è rimasta questa cosa qua io ho un modo di dire che è una volta ci sono porte che una volta che le apre non può più chiuderle e quando e voi mi capirete perché voi avete fatto ovviamente i vostri i vostri tra i nostri come dire spostamenti ma quando sono andato in erasmus sono tornato da erasmus ho detto ok sta cosa qua vorrei averla ancora ho finito l'università e poi io per non saperne leggere e scrivere ho mandato un po di curriculum qua non con un grande coinvolgimento nel senso che io ho studiato sì scienze diplomatiche per in teoria qualcosa che mi porterebbe a lavorare nell'istituzione eccetera spoiler alert per per la mia storia uno non sono assolutamente portato per quella roba lì due quel mondo lì è un mondo di squali che mi ha mangiato masticato e sputato in un anno e mezzo di stash non pagati e cose molto brutte quindi mando un po di curriculum nessuno mi calcola proprio di striscio resto un po in italia e e avevo anche la possibilità di iniziare un lavoro in un posticino carino con uno stipendio buono eccetera però sarebbe stato veramente a 20 minuti da casa e ho avuto questa sensazione del continuerò a svegliarmi nello stesso letto prenderò la stessa macchina o lo stesso treno che facevo per università praticamente andrò lì troverò una ragazza che studia università e che ne so che poi vi è vicino e mi sono immaginato io ho sempre visto questa cosa quando vado su wikipedia e cerco personaggi di qualcosa sono sempre contento quando vedo che sono nati e morti in posti diversi che non vuol dire che non c'è nulla di male a stare dove 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 stai ma deve stare bene e per l'amor di dio non è che adesso chiunque resta al paesino e stupido o inferiore no però beh personalmente mi sembra questa cosa del bisogna fare bisogna costruire qualcosa di diverso quindi mi viene un attacco di panico fondamentalmente l'idea di restare a lavorare in frioli mento spudoratamente a avevo iniziato a fare le selezioni non passato all'ultimo erano last in tre io ho buona possibilità di essere assunto mento spudoratamente al mio potenziale futuro capo dicendo riguarda mi hanno preso a brussel e ti chiedo scusa devo andare beh migliori fortuna eccetera in realtà vado a lavorare come cameriere al mare a mare in friuli e con quei soldi lì mi prendo il biglietto e arrivo e arrivo qua arrivo qua a brussel e da lì inizio un anno e mezzo provo entrando in quel mondo lì appunto stage non pagati sfruttamento robe brutte peraltro lavorando cinque giorni a settimana in stage non pagati con anche non erano fotocopie caffè avevo responsabilità di un certo livello anche economico a volte gestivo dei budget non piccolini per degli eventi e poi alla fin fine lavoravo nel weekend come cameriere quindi facevo dei sette su sette per dieci mesi in cui immaginatevi come stavo messo finché il giorno finalmente ho il declic come si dice in francese mi guardo allo specchio mi rendo conto che io non sono un funzionario europeo che il weekend fa il cameriere io sono un cameriere che la settimana gioca a fare il funzionario europeo che è devastante come cosa però è vero che sono reso conto quindi sono andato dal mio capo peraltro un italiano persona che se mai rincrocio a brussel accelero io ve lo dico non freno anzi e gli dico guarda fra una settimana voglio un contratto con uno stipendio con soprattutto una descrizione di cosa devo fare perché no faccio un punto per niente lui mi intorta con le sue parole che gli dico guarda è semplice ciao e vado via senza stringere la mano e poi da lì è agosto 2016 da lì mi dico ok tutto il mio piano è fallito adesso si riparte da zero e allora ok torno a casa ricomincio da zero in un altro posto che sia a Parigi che sia altro parlo un po' di lingue quindi potevo un po' sfruttare sta cosa qua e però mi rendo conto che uno non volevo che la mia esperienza belga si concludesse con la coda tra le gambe come una sconfitta cioè non volevo che nella mia storia ci fosse ci ho provato e ho fallito e poi nel momento mi ero innamorato della città e in quell'agosto lì mi sono detto ok smetto di identificare il fatto di avere una vita completa e felice con il fatto di trovare lavoro in quell'ambito lì perché per anche perché una volta in cui c'hai allora io sono stato un molto intelligente come studente e relativamente pirla come persona nel senso che mi sono rapidamente reso conto che avere un sacco di 30 e lode non vuol dire assolutamente nulla della tua intelligenza nel mondo dei fuori e noi tre l'avevamo capito molto prima al primo anno in università l'abbiamo capito tutte e tre guarda io ci ho messo 30 e lode lasciaci perdere a noi tre guarda io in università io l'ode l'hai presa però un qualche 30 ce l'ho qualcuno però dico poi non abbiamo finito quindi siamo in tre ma tendenzialmente sì tendenzialmente erano generosi i professori da me il 30 lode non era non era una chimera però alla fine sai io finisco con il massimo dei voti tutto gagliardo e poi arrivo nel mondo vero e mi rendo conto che uno non capisco come gira il mondo di base e due sono come un pesce ford'acqua per certe cose e quindi provo ad affermarmi in quel mondo lì che non mi voleva e che a me non piaceva in fondo proprio per avere un riscontro di ma scusami là nello stagno picco ero il pesce grosso ora come stiamo messi finalmente appunto mi rendo conto che la mia felicità e il mio successo in un certo senso non corrisponde a trovare un lavoro e soprattutto in quell'ambito lì e mi impongo di non mandare neanche un curriculum tutto il mese di agosto continuavo a lavorare come cameriere quindi i soldini entravano e non avevo problemi di appunto di queste cose qua di questi ordini economici e ho fatto un agosto fighissimo perché lavorando solo il weekend la settimana ho libero quindi sono andato al parco sono andato in giro eccetera ho visitato un sacco di cose e da lì visto che la vita quando prendi la giusta decisione tende a mandarti un pochino di disegni incoraggianti di possibilità nel giro di due mesi ho trovato la compagna con cui adesso qui ho comprato casa e viamo insieme da ormai sette anni ho trovato il lavoro in cui lavoro da ormai sei anni sono organizzo dei giri turistici e degli eventi culturali sempre qua in belgio ho iniziato la passione più costante e grande che è il podcast e ho iniziato a giocare a ultimate frisbee cioè il frisbee di squadra come mkdb ecco esattamente e ho iniziato a giocare a frisbee di squadra qui appunto a brussell in una delle varie squadre di brussell e quest'anno sono anche diventato per la prima volta allenatore dei principianti quindi sono contento così e quindi praticamente la mia vita si è girata intorno a questi quattro assi donna lavoro podcast frisbee che hanno costruito la mia routine da ormai sette anni ed ho la grande fortuna e un po un po un piccolo merito di essere schifosamente felice nel senso che mi rendo conto che le mie settimane sono spesso più belle dei miei weekend io dei miei weekend ma tipo non vedo di tornare all'allenamento non vedo di ricominciare a fare il podcast eccetera eccetera quindi quindi bene e il belgio è stato un po è stato molto gentile con me diciamo così mi ha mi ha accolto molto bene è stato anche un po un'espressione che utilizzo quando parlo con altri espatriati e non solo il belgio è stato un po il mio sogno americano come concetto c'è questa cosa di poter veramente immaginarmi qualunque cosa io potessi essere e qualunque persona potessi diventare qui è possibile in italia no e il frisbee c'è in italia bologna è una delle squadre più forti del del panorama europeo però la non c'è in friuli a mia conoscenza c'è in veneto quindi non avrei potuto farlo il podcast ovviamente potuto farlo da da ovunque ma è nato qui il lavoro lavorare in italia ci sono delle differenze delle difficoltà anche se il friuli è una regione relativamente relativamente benestante e ovviamente la morosa è di parigi quindi non l'avrei trovata udine sicuramente no oddio che chissà magari noi abbiamo l'esperienza di una di una signora parigina adesso ai tempi chiaramente una ragazza che ebbe il coraggio povera donna di trasferirsi da parigi eramo e di farci la propria vita e per cui insomma diciamo che magari tutto sarebbe stato possibile però ecco è solo trasferimento di una certa di una certa crudezza immagino sicuramente molto più morbido parigi brusselo certo comunque insomma una wake up call come si dice in questi casi violenta ma insomma interessante perché ti ha svoltato la vita sì letteralmente mi ha svoltato la vita proprio non sa non so dove dove sarei se non fosse andata così proprio non ne ho la più pallida idea veramente no ed è anche bello non non saperlo nel senso che magari poteva essere meglio l'altro l'altro percorso ma non ne frega niente perché va bene così e chi se ne frega c'è una delle cose che dico ogni tanto è quando sei felice non pensi mai a dove potresti essere no a dove altro potresti essere c'è tipo caspita ma prendersi un camioncino e fare il giro del mondo andare zaini in spalla in in argentina bellissimo fatelo io sto bene qua ma perché tu sei in un posto che a me non piace ma nemmeno a me ma il fatto non è quello è che hai citato proprio un passione un scusa una relazione per cui una passione smodata a iniziare della cultura passando per la cultura calcistica che è un anticoltura e beh ok però è argentina e uruguay io mi sogno una notte per cui ok mi dici zaini spalla in argentina anche a 96 anni se mai ci arriverò pensano sì sì ed è una cosa che davvero prima o poi farò ricordo una frase di in in realtà di un giornalista messicano una volta stavo guardando dello sport su espm quando quando io ero in messico il giornalista messicano disse in realtà non sei non si è vissuto se se non hai visto una partita alla bomba nera di Buenos Aires o non hai mai visto il Real Madrid e io il Real Madrid in casa sua l'ho visto battere la mia squadra del cuore e essere soprannominato il vescovo vero e l'obispo da una persona che sta davanti a me perché non sono stato tenero nei confronti dei giocatori in quanto a incontumelie e mi manca il partita alla bomba nera famoso Real Madrid teramo ovviamente no no sfortunatamente football club juventus aia ok 2 a 1 in cui pirlo mangiò il gol del pareggio con un tiro che per lui era semplicissimo dai 16 metri e io in quel momento mi inginocchiai dicendo di tutto e con l'avanti si tirò oh è bellissimo mi sono fatto una birra con un tifoso Real Madrid da fine partita vabbè ci sta no è la cosa più bella dello sport quando è bella questa cosa che è bella questa cosa che sappiamo tutti quanti che tu sul letto di morte ah spero più tu sarai ancora lì pirlo dio bono se ne c'è stato sicuro sicuro assolutissimamente che scherzi sicuro sì con con le vocali giuste anche allora in pochissimo tempo tu ci hai riassunto diciamo così il tuo percorso di di espatrio ti sei già autodefinito espatriato perché è una delle prime cose che c'è che c'è detto quindi già ti senti che sei sei là che la tua vita è lì e che continuerà lì che è una delle domande che facciamo di solito alla fine se pensi che il tuo futuro possa essere appunto lì dove sei o un futuro di ritorno ok comunque è abbastanza chiaro che in questo momento tu vedi la vita dove sei non non un ritorno romantico beh allora intanto se parto prima del 2028 27 scusami devo pagare 21 mila euro di tasse allo stato belga quindi io non perché perché ho evaso perché scherzo scherzo ovviamente no perché per l'acquisto della prima casa c'è una giovazione fiscale se ci vivi cinque anni quindi vuol dire che siccome sono fresco proprietario senza però a parte gli scherzi grazie grazie a parte a parte gli scherzi no 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 sono 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 emigrato sono espatriato sono non mi piace tanto la parola expat se faccio un attimo il polemico perché qui expat vuol dire che hai una laurea e sei bianco e invece immigrato sei un poraccio puzzolente viene dal dalla parte brutta del mondo quindi mi definisco sempre immigrato parlando con gli italiani o espatriato però questa cosa dell'expat non mi piace è un pochino classista è come voler dare un po un nobilità insomma al fatto che qualcuno si può sposti da una parte all'altra rispetto a quello che aveva il marcone esatto c'è cosa cambia cambia letteralmente il mezzo di trasporto non è che non sono io che lo guidavo l'aereo quindi non ho merito in sta cosa qua giusto per difesa aziendale che dobbiamo fare uno di noi tre la deve fare perché raffaele continua a utilizzare questa cosa degli expat anche perché un pochettino internazionale non per il mignolino alzato se lo penso in realtà è perché noi per il 99 per cento delle persone che abbiamo incontrato intervistato con cui abbiamo chiacchierato con cui sostanzialmente ci siamo fatti una birra qui nel pub di una vita lontano non sono dei degli immigrati che o degli emigrati che dovevano andarsene se non morivano di fame certo come succede per quelli che attraversano mezzo mondo eccetera eccetera né tantomeno se ne sono andati per per delle difficoltà in delle impossibilità solute al massimo uno ce n'abbiamo avuto che è un nostro caro amico probabilmente aveva fatto la puntata più densa e pesante di significati ma il concetto di chi va in un altro posto in un altro paese per crearsi una vita migliore per noi è una roba assolutamente normale che dovrebbe essere fatta non perché devi non perché ti mancano le opportunità o le situazioni o il fatto di poter vivere una vita normale dove stai eccetera ma perché lo fai come scelta ovviamente poi se fai i conti anche tu l'hai detto prima e se restavi lì che ti poteva capitare di fare delle delle robe che per te non erano già più nel tuo quadro delle possibilità non per dirti cotica come si dice a mio quartiere non per dirti esattamente il contrario di quello che dici però giusto per per far capire che quando utilizziamo questo questo termine expat e alzo il mignolino da free free e non lo facciamo perché ce lo sentiamo perché ci piace distinguere lungi da me l'intento polemico lo possiamo fare abbiamo quei due minuti fino alla mezz'ora che raffaele poi deve fare il pippone di metà puntata su tutti i link ci abbiamo due minuti di cazzello al nostro quartiere no e volevo dire è fighissimo avere un podcaster molto più bravo di noi da intervistare perché tu basta che gli dai un la e fa lui emiliano si dice logorroico non podcaster no 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 non lo direi emiliano ti prego c'era un altro che insomma noi abbiamo iniziato la nostra carriera radiofonica scegliendoci dei degli ospiti fighi sostanzialmente facciamo la prima domanda poi li facciamo parlare quando poi c'è capitato di invitare un po diciamo così un po troppo serie questo giochino non ha funzionato più perché tu gli facevi la prima domanda e dopo mezz'ora finiva la prima risposta il fatto che tu ci hai raccontato già tutto il tuo percorso tutta la tua storia adesso ci permette di farti le pulci e di farti le domande che piero per esempio ce ne ha tre quattro di quelle che facciamo sempre non fare quella faccia facciamo sempre a tutti i nostri ospiti almeno quando ci ci capta una di quelle appunto se vedi il tuo futuro un ritorno eccetera abbiamo già detto io già ti senti che la tua vita è lì l'hai costruita ci avete una casa c'è una compagna ed è un paese neutrale per entrambi quindi lei non è belga e non lo sei tu e quindi vivete in un paese terzo ed è una cosa strafiga come dire è una una configurazione particolare in più hai un lavoro che è legato al turismo quindi hai a che fare con sicuramente altri italiani che vengono lì in quel paese a visitarlo da turisti e tu da residente glielo spieghi o cerchi di farglielo capire io spesso rido dicendo che siccome in italia non c'è niente da vedere buddista turistico sono l'italiano che viene a rubare il lavoro ai belga capisci cioè questa è l'idea però sì lavoro non lavoro tantissimo con gli italiani perché tendiamo a lavorare di più con un pubblico aziendale quindi tanto con i belga con allora il gruppo turistico che ti immagini che viene dall'italia col col pullman o con l'aero eccetera 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 con la guida spesso viene con la guida direttamente dall'italia oppure contatto alla guida italiana qua freelance ne ho a tutte bisogna dire che cosa importante tutte le guide in belgio sono freelance quindi possono lavorare con me se gli do una missione possono andare per conto proprio o per altre associazioni c'è qualche guida che lavora praticamente solo con noi qualche alta che non lavora con noi e vabbè questo è normale con gli italiani ho lavorato già in passato sì assolutamente ma è più ad esempio il punto forte di brusselle che essendo veramente in mezzo all'europa non solo politicamente per un europea ma proprio anche geograficamente se bisogna fare un congresso tipo per ottobre sto organizzando per degli italiani il congresso degli autotrasportatori bus quindi io ho avuto l'ho già lavorato con loro un paio d'anni fa e ho avuto il piacere di stringere la mano all'amministratore delegato di della società del bus che mi portava a scuola da bambino in fiori che è una cosa fighissima problema degli italiani la cosa la cosa positiva è che essendo io l'unico italiano madrelingua 100 per cento che lavora a brusseli in questo mondo qua perché brussela è un grande villaggio e il mondo del turismo a brusseli ci si conosce tutti c'è una ragazza che è mezza polacca mezza italiana che parla anche italiano però non è madrelingua che in un'altra in un'altra organizzazione quindi se c'è un italiano lo piglio io sicuro perché ovviamente gli rispondo in italiano è apri di cielo problema c'è il risvolto della medaglia molto maltese questa cosa qua è che però mi fai un buon prezzo ma non ti conosco ma non ti ho mai visto ma chi sei no e allora lì gioco il gioco il ruolo friulano e schneider o schneider dicendo considera considerami austriaco non e quindi ho avuto mi sono abbastanza ho litigato con penso due clienti in sei anni italiani proprio non non ce n'era quindi non c'era dubbio quindi quindi insomma mi fa molto piacere parlare italiano mi fa molto piacere accompagnare accompagnare clienti italiani se si comportano un pochino decentemente europei da europei e talvolta non capita allora visto che siamo a metà della puntata bisogna fare le famose call to action action to call insomma chiamate non è un'azione per chiamare e chiamare all'azione destra distruggendo marketing a me non importa perché l'odio assolutamente quello di tutti gli articoli e poi come la pensate e voi che invece devi chiamare all'azione i nostri ascoltatori per fargli fare qualcosa che è l'unico modo in cui noi guadagniamo potenzialmente che cosa dovete fare dovete andare su una vita da lontano punto com dovete cliccare in basso a destra se state guardando youtube dove c'è scritto iscriviti quindi cliccatevi iscrivete cliccate sulla campanella di youtube e poi andate sul vostro podcast sul quale ascoltate questa questa puntata che sia ancora che sia spotify che sia apple podcast e cliccate su follow seguimi e poi sulla campanella e quindi sapete poi quando c'è una nuova puntata di una vita da lontano insomma se poi volete anche farlo per and one il podcast del nostro ospite va bene pure però insomma per il momento fatelo su una vita lontano e poi fatelo anche sul podcast del nostro ospite se volete capire perché i Lakers saranno i campioni di questa stagione non ho dubbi alcuno dovete capire dovete ascoltare loro che bella che è la fede una cosa contro ogni logica si avanza bellissima ci abbiamo messo solo 34 minuti scusa non ti volevo dire cotica ci abbiamo messo 34 minuti per dire il nome del podcast e a me questa cosa ogni tanto se ci faccio caso c'è comunque trovate il link in descrizione quindi con tutti tutti i riferimenti possibili immaginabili e poi insomma mettiamo adesso emiliano che sta montando questa puntata metterà di lato insomma di qua di qua se la state guardando su youtube il logo del podcast di andrea quanta solidarietà che ho per te emiliano andrea poi se mi mandi se mi mandi delle foto dei videucci di voi che lavorate eccetera eccetera poi perché figlio il figlio del del ciabattino va in giro con le scarpe rotte detta in italiano chiaro è per tutti quindi se uno fa una cosa figa sicuro non ha niente da far vedere una cosa che nel racconto e nel proseguo del racconto che ci hai fatto volevo capire questa cosa del podcast quando si è attivata che già eri diciamo così in una situazione brussellese diciamo così di nuova vita o già da prima si no no è nato tutto quanto a brussel per quello sono veramente convinto che nonostante non ci sia una una risposta logica una ragione logica ho iniziato a fare il podcast perché sono a brussela anche se potevo farlo anche da ovunque è proprio perché in quel famoso agosto 2016 in cui mi guardo allo specchio mi rendo conto che sono una tela bianca ho ricominciato da zero mi sento che cosa mi piace fare e allora ho detto boh cultura turismo girare andare a fare musei cose varie lo so cerco in quell'ambito dice qualcosa e poi lo sghiribizzo di provare a fare radio provare a parlare a un microfono mi sento perché no ho mandato un paio di curriculum come volontario solo dare una mano un paio di radio qua però non ho una grande cultura musicale né un enorme interesse nella musica indi per cui quel lato lì era andato via tutto quello che è parlare con eventuali ospiti il mio francese ovviamente è buono perché parlo faccio ogni giorno però non ho un francese puro senza accenti senza italianismi spesso quindi sai una cosa mi ferma un po e neanche farla apposta appunto andrea il mio il mio conconduttore copilota mi manda un messaggio whatsapp in quel periodo lì dicendo mi piaceva fare un po e ho detto perfetto smettiamo da alcuni come alle radio e lanciamo il progetto progetto podcast e quindi abbiamo iniziato abbiamo iniziato a metà stagione quindi verso gennaio del 2017 con con un ritmo abbiamo risentito la prima l'episodio 1 o l'episodio 0 quello che ti chiamato come volete un paio di anni fa all'occasione dell'episodio numero 100 quello che era non mi ricordo insomma ovviamente un imbarazzo postumo gigantesco perché ovviamente il ritmo non c'era ci si impappina si parlano un sull'altro chiunque lo faccia è passato quindi ecco un po così però no iniziato nel 2017 l'idea 2016 quindi ero già ben stabilito qui con con tutto quanto qua ecco invece a questo punto visto che poi stiamo parlando un attimo di and one andiamo a scavare sulla tua passione quando nasce la tua passione in bia e come nasce e soprattutto dillo anche a noi se sei tifoso o meno io come si è notato sono assolutamente imparziale assolutamente si vede è bello perché per discutere bisogna essere allora tutto nasce perché tutto nasce per tutto tutto nasce dal dna nel senso che i miei genitori super appassionati di basket non nba di basket italiano mia madre ha cofondato la squadretta del villaggio del paesino dove ho giocato anche da bimbo eccetera eccetera io ho fatto mini basket due anni ero una notevole pippa e quindi ho smesso e poi essendo alto un metro e 77 nei giorni molto buoni in realtà sono 76 capite che andando avanti no evitiamo quindi quindi appunto ero scarso eccetera però la passione è rimasta i miei grandi appassionati della snyder udine nome nome ma anche se non sono assolutamente della famiglia non faccio cucine non non ho tutto non ci farai da sponsor abbiamo capito ma neanche a me stesso mi fa da sponsor il grosso problema che ti diceva il primo anno che sono a break even manco ci guadagno ciao sono a break even e quindi quindi iniziamo appunto inizio ad andare al palazzetto al carnera a seguire la snyder o sono i miei genitori andavano sono al palazzetto quando la snydero passa dalla 2 alla 1 nell'annato 2000 2001 o 2002 non ricordo precisamente siamo lì io poi mi perdo completamente il basket perché inizio a giocare a tennis e inizia a piacere molto di più il tennis a seguirlo però non sviluppo veramente la passione a 18 anni smetto di giocare a tennis e ritrovo appieno la passione basket mia a bono alla snyder che ne mente la data in a2 e quindi faccio un po di faccio un po di palazzo e poi inizio a seguire la mia vera e propria prime 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 partite viste sono state le finali 2008 poi avete una dei celtics contro scusami i lakers che brutta cosa che hai detto adesso vi siete rifatti due anni dopo va bene così su e quindi e quindi lì inizio e poi inizio pian piano a seguire e poi più tempo passa più seguo con più con più cognizione di causa e attenzione diciamo così passo da guardiamo ogni mattina gli highlight di due minuti a dieci minuti a guardarmi le partite adesso ovviamente perché se no e quindi e quindi nasce nasce da qui ho avuto la fortuna di guardare allora la siccome le cose bisogna farle precisamente io sono andato per la prima volta è unica fino a questo punto negli stati uniti per i miei 30 anni quindi tre anni fa mi amorose mi amici mi fanno un enorme regalo mi fare una colletta a pagarmi l'aereo fantastico compro dei posti incredibilmente buoni per andare a vedere i clippers in cui tra parentesi giorgio giorgio erano sani a quel tempo lì contro dallas e doncic e contro i pelicans con zion che giocava e il nostro buon nick melli che era ancora a roster quindi io sono felice come una pasqua secondo voi io in che mese posso aver volato se non marzo 2020 quando è successo quindi io atterro atterro non mi ricordo l'otto nove marzo quello che era mi godo cinque giorni stupendi a san francisco fatto tutto quello che vuole fare poi viaggio da solo teno in spalla musica un sogno veramente per i 30 anni ho vinto libertà totale felice come una passo con la mia lonely planet in tasca fantastico prendo un bus di notte per andare a los angeles devo prenderlo il giorno x al giorno x meno due inizia a puzzare la cosa no inizia a il ghetti ha chiuso ok a gober ha toccato i microfoni quel momento incredibile quindi quindi cosa succede diciamo che il sangue ci mette molto a arrivare al cervello perché due metri e spaccami no quindi quindi cosa succede si blocca allora se per facciamo un po di tascaria cioè questo giocatore di nba allora praticamente sì raccontiamo mi permette perché gioco in casa sì allora ne abbiamo anche ne abbiamo anche già parlato nel nostro podcast nella rubrica momenti ma questo giocatore qua è un giocatore francese un giocatore gioca in ruolo di pivot come si dice o pivò come dice noi noi che abbiamo una certa età o di centro come dicono i più giovani è difensivamente molto bravo a proteggere il canestro e non sa fare nient'altro questa è l'idea nonostante questo nonostante questo è molto ben bagato eccetera ha da l'impressione di essere non come dire il coltello più affilato del del ceppo diciamo così e però vabbè quello ci interessa al giusto insomma non è per quello che che lo guardiamo però quello che accade è che praticamente nell'inizio del covid quando non sapeva ancora cosa fosse quando c'era chi diceva non è nulla e chi diceva moriremo tutti tra la torce sofferenze lui in un impeto di non so cosa è in conferenza stampa siamo agli inizi in cui tutti i guantini rimaschi tutto e lui prende conclude lo suo discorso cioè va 18 microfoni davanti e si mette a toccare tutti i microfoni così praticamente il giorno dopo si scopre che lui è positivo e che tipo metà della lega è positiva ovviamente non è stato lui che ha contagiato tutti quanti però è chiaro che non fai una bella figura se in un momento in cui poi dati in america morivano come mosche perché il lo stato di salute americano medio non è fantastico e quindi insomma non era molto molto apprezzabile quindi in quel momento lì io sono a san francisco che mi godo la vita e quindi quello che accade che inizia a rendermi conto che le cose saltano la cosa inizia ben veramente a puzzare e quindi cosa faccio controllo di come perso per perso vado a vedermi una gara stasera san francisco anche se caso della vita becco i clippers che comunque eccetera però era però il 2020 i golden state warriors che sono una delle squadre più dominanti degli ultimi dieci anni per chi non lo sapesse è stata l'annata in cui non ha manco fatto i payoff perché era rotto thompson rotto carrie e quindi praticamente io ho visto giuro su dio dragon bender in maglia golden state dominare il pitturato hanno per hanno perso di 30 30 cino lo so una roba vergognoso ho visto paul george cawe leonard che non è poco ho visto zubac dal vivo che è fantastico da guardare dal vivo eccetera però ammetto che si si puoi piaggere amare lacrime però ecco quindi quindi quello è stato il mio momento di toccare con mano l'nba e da lì mi sono detto boh ho un conto aperto con la california però per adesso mi limito ecco quindi rimani lì perché sennò parte un'altra pandemia no scusami perché io ho preso l'aereo a brussel un'ora prima che esplodessero le bombe all'aeroporto quindi sono io ufficialmente che porto sfiga non invitatemi va bene adesso poi facciamo tutta una serie di di ritivuduta queste parti no la domanda che ti volevo fare adesso probabilmente era un momento particolare però l'impressione che ho avuto io quando sono andato a vedere la mia prima unica partita nba che era appunto il golden state warrior contro aiutatemi adesso non mi ricordo più chi era ce ne sono 29 ce ne sono soltanto 29 fai tu a esta ove il colore delle divise indiana scusatemi un momento un brain farti era indiana prima che ti eri in mente contro indiana io la dico e compagno quell'anno lì però insomma bella atmosfera al palazzetto adesso però io per aver vissuto per molti anni con questi due amici l'atmosfera dei palazzetti seriali la curva di palas capriano c'è molta distrazione adesso non ce l'hai avuto tu assolutamente sì cioè nel senso che sì si fa il tifo però e c'è talmente tanta roba che succede intorno che la partita diventa un oggetto secondario se non è una partita insomma di quelle dei di playoff insomma di così quindi hai avuto tu anche tu questa impressione o no allora 100 per cento sì il grande problema in quanto appassionati di di basket come siamo tutti tre non solo lo stesso di quattro e non solo noi quattro è il fatto che c'è un discorso di qualità la stagione nba è infinita quindi per forza non essendo molto diluita l'intensità scema in certe situazioni molto spesso quindi se tu guardi una partita per guardare una bella partita devi sperare che ci sia una bella prestazione di un giocatore infatti durante la regola si guardano i giocatori durante i playoff si guardano le squadre questa è la mia regola di base perché altrimenti cioè oltretutto gli stati uniti hanno questa questo sistema questo concetto del fatto che lo sport è prima di tutto intrattenimento nonostante il valore della vittoria sportiva sia ai massimi storici per loro perché già c'è un'ostetica calvinista che il successo vuol dire che dio mi ama quindi figurati però ovviamente quindi sì cioè il problema è che lo sport il basket soprattutto il basket è uno sport la ragione per cui lo amo immensamente nonostante appunto sia schifoso a giocarlo resta il suo preferito tallonato dal frisbee proprio a poco poco di tanto però resta il basket è quello che mi piace che è uno sport estremamente complesso nel senso che in un'azione possono accadere 50 cose che hanno tutte un impatto e a me piace guardare le gare per vedere il momento in cui la gara cambia che può essere uno sfondamento preso può essere un qualunque cosa non è per forza il grande canestro da schiacciata può essere veramente un buon scivolamento difensivo delle cose veramente intangibili queste cose quale vedi ai playoff non le vedi in regular e quando sei al palazzetto devi accettare che da un lato vanno show incredibile perché per una partita del cavolo di regular che ho visto a marzo quintato regola di marzo vale veramente niente il fuoco sparato i fuochi d'artificio per una sconfitta di 30 parola presentazione eccetera il proiettori sul parquet che diventa una specie di schermo 3d però è come andare al cinema con il super imax e bisogna viverla così perché peraltro lo sport vive di momenti di inerzia faccio due canestre di fila prendo l'inerzia time out pubblicità la tizia cinese che lancia i piatti sulla testa il gatto che cammina sul 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 manico da scopa i tizi col monociclo che fanno i giocolieri e poi ricominciamo a giocare quindi hai perso come tutto quanto la la forza e intorno a te c'è ci sono ovviamente migliaia di persone che mangiano l'impossibile e anche tu perché immagini è impossibile io ringrazio sempre le due signorine accanto a me che mi hanno dato le patatine avanzate che sono morendo di fame ma costa talmente tanto perché tra l'altro ho fatto il calcolo se sei una famiglia di quattro ti vanno via allora ero ero al chase center di san francisco che è uno tra quelli coi prezzi più alti per amor di dio però ti vanno via tutto compreso 500 dollari secchi per una serata lì perché i biglietti il parcheggio il cibo il cibo una pinta di birra 14 dollari uno dog 18 la qualità le mance e il bambino vuole la magliettina che non li prendiamo una magliettina al bimbo e ti vanno via 500 e quindi anche lì no io pago tanto per un'esperienza cazzo fammi vedere sono i migliori attenti del mondo fammi godere di uno e cioè no e quindi quindi un po no ammetto un po così ti racconto tu pensi essere stato sfortunato per perso quelle due partite che avevi che avevi in programma ti racconto questa velocissima io due volte in vita mia sono stato con il biglietto prenotato per andare a vedere una era Milwaukee los angeles l'anno del pubblico lui annuncia il ritiro con la famosa lettera dei atleti io il giorno dopo arrivo al lavoro vedo la lettera mi metto a piangere compro il biglietto più est che trovo subito seduta stante chiedo le ferie me ne approvano una settimana prima di partire il mio collega viene operato per cui cancellate le ferie rivenduto il biglietto su ticket master ancora oggi rimangio rimangio il collega è vivo ma ha una bambolina voodoo nascosta in camera mia ogni tanto gli faccio i rum un dolore accostato giusto per vendetta ma niente di più anche perché alla fine di conto gli voglio bene molto alla fine di conto la seconda volta invece vivevo in messico per cui finalmente in messico c'è questa meravigliosa cosa per cui tu il primo anno non puoi prendere ferie cioè lavori un anno di seduto anche qui anche qui sta sta cosa vergognosa ecco quindi il titolo sarà belgio due punti in messico d'europa e appropriatissima per tante cose e finalmente arriva arriva il periodo in cui posso prendere le ferie chi gioca il lakers a san antonio san antonio rispetto a monterrey è uno dei voli più brevi che puoi fare per andare in ferie prenoto due biglietti perché tempi avevo la ragazza prenoto due due il prossimo weekend andiamo a san antonio ah fighissimo possiamo andarci in auto perché vicino adesso non gliel'hai detto proprio così gliel'hai detto de amor los vamos una roba così no parlo anche con un discreto accento italiano lo spagnolo per cui soprattutto non mi vergognavo con con loro perché e gli spiega le spiego questa cosa albici abbia in macchina che vicino fa davvero vicino sì sì sono solo otto ore e mezzo di guida affatto no io sono europeo sopra le due ore e mezzo si vuole per cui ho già comprato anche i biglietti aerei insomma abbiamo discusso così tanto che io ho rivenduto i biglietti della partita e ho perso i biglietti aerei non sono andato mai a vederlo partite miei anche avendo visto due anni in messico quindi c'è una seconda bambolina voodoo accanto al tuo collega no ho finito appena ci ho finito di parlare subito prima dell'inizio del podcast perché siamo rimasti molto amici ok ok in un altro continente però dovremmo andare insieme da qualche parte io sto per dire la vera partita dei lakers però poi mi sono morso la lingua perché sai com'è però sì ma rimpiango però ti assicuro rimpiango oltre di più quella di mio sì allora andrea raccontaci e visto che stiamo andando verso la fine quale qual è insomma la prima puntata quello che si è capito perché ne faremo altre qual è stato il momento più alto invece del vostro podcast in termini di di non so soddisfazione personale un momento uno è un momento che non è andato in onda ed è il pre e post registrazione con Niccolò Melli perché ci ha raccontato una serie di cose fuori da questo mondo veramente peraltro persona meravigliosa ma veramente meravigliosa cioè insomma è un discorso che farebbe la nonna per dire che il tuo morosetto è una bella persona umilissimo piedi per terra super disponibile super ironico assolutamente non distante da noi perché ha com'è la passione non importa la carriera i soldi eccetera una persona veramente d'oro veramente d'oro prodigo di complimenti curiosissimo su come si fa un podcast ha chiesto un sacco di cose ha fatto il suo peraltro il secondo suo ma quindi insomma veramente fantastico quello ho avuto un paio di episodi allora c'è c'è una cosa che è un momento alti io non capisco perché abbiamo fatto durante il covid siccome se qualcuno ha una cosa creativa durante il covid ha stra prodotto voi avete iniziato io ho raddoppiato la produzione abbiamo fatto una cosa che si chiama apocalypse draft abbiamo immaginato che praticamente tutti i contratti saltassero quindi le squadre sono vuote e tutti i giocatori sono lì a disposizione come la playstation esattamente no e abbiamo abbiamo chiamato degli amici esperti anche loro e abbiamo fatto ci sono divisi le squadre abbiamo fatto rome in cinque abbiamo fatto io vi giuro su dio l'abbiamo fatto a 2020 io vado a vedere le statistiche ci sono sempre sette otto matti che vanno a risentirsi con gli episodi lì e tipo io vedo abbiamo fatto tipo 12 episodi su sta cosa c'è una rottura di palle infinita tipo quattro visualizzazioni quattro ascolti apocalypse episodio sei ma perché ma perché è l'algoritmo io non capisco perché ma noi abbiamo ancora messaggi di gente che ci parla di nostre squadre che abbiamo fatto due anni fa cioè tre anni ma incredibile e poi per fare la top 3 chiuderla direi abbiamo fatto una cosa molto figa molto molto figa che consiglio veramente a tutti quanti appassionati andrà a farlo e ringrazio tantissimo cosimo cosimo sarti che spero ci ascolti è uscito dell'est dance su netflix quindi documentare di c bisogno su michael jordan eccetera michael jordan eccetera si vede che sono esperto no michael jordan quindi quella squadra che ha vinto solo in un periodo certo sì esatto praticamente quello che quello che è accaduto è che cosimo che ha che la passione apre delle porte che nessun'altra cosa può aprire cosimo riesce a rintracciare quello che era nel nel documentario il non i giocatori però il giornalista il quello che ha collaborato quello che quello che quello che e nomi grossi del giornalismo sportivo americano che hanno lavorato anni accanto a giorgia veramente il proprio la distanza minima e noi abbiamo fatto una vera e propria versione estesa del documentario cioè se il documentario non vi basta o volete saperne di più abbiamo avuto delle fonti di primissimo livello e proprio di prima foto cioè loro caspita e abbiamo ampliato su vari punti che non erano stati trattati abbastanza secondo me nel documentario eccetera cosimo ha fatto un lavoro incredibile veramente lo cito e ricito perché se lo merita tutto e quali è stata una cosa non so se la cosa più bella o fi che abbiamo fatto però secondo me la cosa più qualitativa a livello internazionale come concetto proprio c'è un podcast amatoriale mezzo scalcagnato di italiani ti prende ti fa una cosa completamente inedita che è una una approfondimento sul giocatore uno tra i se non il più iconico della storia del basket con le fonti dell'epoca sua di chicago non so ditemi voi cosa sappiamo fare con la passione non lo so adesso sul tema del last dance vi voglio segnalare un bellissimo sketch di saturday night live che è uscito proprio in quel periodo in cui praticamente c'è la reinterpretazione del momento in cui giordano gioca a dadi colomino del 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 palazzetto con quello quello steward del palazzetto e c'è praticamente un un diciamo un finale un pochino diverso perché jordan vince tutto e l'omino rimane nudo però andatevolo a cercare saturday night live last dance perché è una cosa fantastica o quindi sostanzialmente con il nostro finale così abbiamo ci urlato nel manico moltissimo oggi nel senso che ti abbiamo dato briglia sciolta perché ci piace sentire le storie grazie i racconti dei nostri dei nostri ospiti a modo loro cercando anche spesso di non interromperli ciò prevede però evidentemente che faremo un'altra puntata fra qualche mese non alla fine dell'estate che diciamo così un po di batteria sono state ricaricate in quel di un paese dove non piove mai dove tempo è bellissimo c'è un sole che spacca le pietre quindi riproveremo il tempo è bruttissimo ecco riproveremo dopo qualche mese di autunno in barra inverno bruxellese e per vedere insomma la tua prospettiva sul sul paese sulla città è cambiata e se anche il mood diciamo può essere diverso sicuramente vogliamo un'altra puntata per continuare a parlare di questa cosa del del podcast di mba di palacanestro per così fare per noi un tuffo nel passato e raccontarti tutti i nostri aneddoti ecco ti possiamo raccontare non andiamo a guardare i cantieri e quindi io ho già il titolo io ho già il titolo and one incontra il b team e da via disperato cioè ti possiamo raccontare di quando fontecchio di quando fontecchio bambino veniva a vedere la partita del teramo basket e giocava tra il primo e secondo tempo con gli altri bambini oppure di gallinari che fece 30 punti a teramo e giorgevic venne autografata ecco avevo promesso in in pre in pre puntata che te l'avrei fatto fare se puoi inquadrarle un po meglio queste adesso adesso solleverò un laptop per cercare di capirsi abbiamo danilo galinari denver ufficiale autografata abbiamo Juan Carlos Navarro purtroppo tarocca presa dagli indianini a Barcellona perché chiedo scusa a Juan Carlos Navarro che è stato il mio giocatore preferito per un sacco abbiamo una tra maglie più brutte del mondo secondo me la Slovenia che tristezza incredibile la Slovenia degli europei 2013 giocati in Slovenia dove io sono andato a Ljubljana e ho visto ufficialmente Cusin che stoppava Fernandez e abbiamo gol uno degli eventi più cataclismatici che la storia dello sport conosca gara incredibile lui Cusin che stoppa lui e stoppa Margazol da Tome che fa una chase down su Claver gentile che ci porta al supplement una cosa incredibile e poi dall'altra parte abbiamo i cimeri della mia gita a Zagabria con due maglie di Petrovic quella del Sibenka quindi la sua squadra da giovanile, da ragazzino e poi quella del Simona e quindi abbiamo fatto non solo le sole che ho però sono quelle che ho qui adesso sono in Italia però sono già poi ti do un link di un'azienda tedesca che lavora come si chiama? il vetro di plastica il vetro sintetico stai dicendo la mia incredibile abilità di decoratore di interni con dei modi siccome viviamo in un periodo storico in cui tutto quello che si può pensare, immaginare si può avere io te li segnalo perché se vuoi fare un'installazione strafiga proprio da museo dentro casa tua è fattibile ed è anche affrontabile economicamente parlando io in studio ormai metto tutto dentro queste un bene dentro le tec prendo nota io per la prossima puntata tiro fuori tutte le magliette della Teramo Basket e poi dicevo racconteremo ho anche i dischi io dall'altra parte che non li vedete e conteremo di quella volta che io Emiliano in una supercoppa italiana Siena contro non mi ricordo chi a Siena vedemmo entrare Andrea Barniani che ci aveva forse 17 anni e mezzo era la quinta cazziata di Messina io dissi ma questo è veramente scarso e Emiliano disse no questo è furte proprio in dialetto abruzzese e poi insomma ha fatto la fine che ha fatto quindi Emiliano ci aveva visto molto più soprattutto come tale scout mi fiderò più di Emiliano no ma in realtà era forte ma poi non c'aveva voglia perché è romano cioè ha il suo limite è proprio intrinseca 4 milioni di amici fatti subito non è vero non è vero l'avessero draftato 10 anni dopo e 10 posizioni più in basso signora carriera secondo me nel basket di oggi in cui il rimbalzo non è così importante la difesa perimetrale aveva soltanto uno che è il centro lui lo mettevi in alla grande e tirava l'era di Dio e avevamo risolto il problema veramente peraltro Andrea Bagnani se ci segui ti ho titolare in NBA 2K13 perché io gioco ancora con la Wii perché sono un uomo romantico e quindi io ho l'unico ultimo gioco possibile è il 2013 quindi sei titolare ok perfetto allora voglio svegliere il contento però ho J.R. Smith Kobe Bryant bravo poi ho Gallinari perché è una bomba Gallinari quel gioco lì tra l'altro cioè anche nella realtà Laineri Bagnani per l'angolo l'angolo un pochino più patriottico e poi c'è l'ultimo non ricordo JJ Reddick perché io bombardo ah cioè praticamente Kobe va in petra attrazione e se non può schiacciare esatto va in apertura dove prende prende e tira da fuori bravo è gioco come gioco come Orlando 2010 di Vangani gioco così o come Antony nel secondo anno di Houston probabilmente allora questo è un angolino assolutamente per intenditori cioè né per amanti della palacanestro né per amanti dei videogiochi ma per il mischione per il librido che è il mostro della della laguna silenziosa allora siamo sicuramente arrivati in finale di questa puntata non abbiamo fatto i playoff l'abbiamo fatta dritta così come è venuta problemi tecnici li abbiamo superati ampiamente come accade di solito non vi stiamo a raccontare in retroscena ma vi anticipiamo che vogliamo fare un'altra puntata a meno che o il nostro ospite diventa super famoso o noi tre diventiamo super famosi che ne sai e magari le cose cambiano oppure potremmo benissimo fare no diventiamo tutti e quattro super famosi facciamo un podcast mischione di una diciamo così una tematica terza che non è negli espatriati né l'NBA ma è proprio un'altra roba caterpillar cioè una roba così e quindi è stato un piacere non abbiamo fatto assolutamente tutte le domande che ti potevamo fare per cui è necessaria un'altra puntata non ci hai detto tutte le cose che ci volevi dire perché sicuramente ne avrai avute a bizzeffe delle della ciccia così degli espatriati ne è venuta veramente fuori poca però va bene così perché ci è piaciuto quello che abbiamo sentito ci lavoreremo è stata una puntata veramente veloce e leggera io sono il primo a ringraziarti di essere stato con noi che sia l'inizio di una lunga amicizia ecco se poi puoi invitare nel tuo podcast Piero così un po' di soddisfazione perché fanno un prodotto in qualità e lo puntiamo con il dito e va bene ma una puntata buca ogni tanto ci sta senza ospite che fa noi ci abbiamo Alessandro e quando non sappiamo o ci danno buca la dobbiamo fare per forza la puntata e chiamiamo lui no sto scherzando grazie mille ho già allungato il brodo eccessivamente per cui grazie fate voi amici quello che devono fare di solito stiamo andando veramente un po' lunghi io chiedo all'ospite di dire in questo momento qui se c'è qualcosa che vuoi dire ai nostri ascoltatori che sta pensando magari di fare il tuo stesso percorso o simile o se c'è qualcosa che non hai detto finora che è questo è il momento giusto oppure semplicemente puoi fare dei saluti così saluti a casa il punto è che essendo podcaster che vuol dire il ratologo eroico avrei ancora meno 6 ore di podcast in me da fare con voi quindi non apro non apro nulla se vi interessa Basket NBA date un ascolto al nostro podcast se vi piace seguitelo se non vi piace andate a sentire altro non c'è alcun problema l'importante è che ognuno metta il mattoncino niente io vi ringrazio veramente tanto come dico spesso per quanto riguarda prossime puntate assieme sfondate una porta aperta quindi quindi volentierissimo volentierissimo non vi ho spiegato come funziona il frismi come si è incredibile e poi il problema è che se prendete quattro persone che sono appassionate di basket e parlate di altre cose è un po' di fia la tentazione la tentazione tende ad essere grossa no grazie mille veramente grazie mille per il tempo e lo spazio grazie mille per avermi fatto correre sciolto le tricce ai cavalli e niente con grande piacere alla prossima e a questo punto come dico nel mio di podcast buona stagione a tutti beh considerando la fin dei conti che avete appena iniziato in effetti siamo stati praticamente la tua summer league quindi alla prossima ci dirai come è andata la prestazione con tabellino alla mano benissimo per il saluto oltre a ringraziarti di nuovo anche da parte mia come faccio spesso ti dedico una citazione sul viaggio in questo caso di andrei che immagino francofono per cui magari era si applicava e dice l'uomo non può scoprire nuovi acerni finché non avrà il coraggio di perdere di vista la propria the end one podcast true shooting l'ultimo episodio si chiama e diventa un posto brutto anche le Hawaii senza di noi numero 244 questo è il podcast di Andrea quindi trovate il link in descrizione andate e cliccate anche voi sul seguimi così sapete quando ci sono altre puntate se volete risentirci cliccate su seguimi qui sotto e su iscrivetevi questa era una vita da lontano ci siamo divertiti come sempre questa volta anche un pochino di più e ci vediamo la prossima volta ciao e non abbiamo parlato di cibo per niente ciao